Musica Sei pronto? Eh son pronto Vai 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 Io il biglietto non l'ho pagato Io non ho impagato Questa cosa mi preoccupa anche E poi è molto sicuro Oddio Sei sicuro che funzioni? È un po' instabile Ma è già mente questa è un pezzo un po' difficile per cui un po' c'è una cosa al centro cuore non lo vedo ci passiamo forse tic 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 poi dire i colpettini che si sa e questo qui è anche il punto prendevole continua a prendere quel tasto io lo sto premendo non è vero io ci avrei messo il posto dietro lo mettiamo dopo quale quello al 10.000? si quello quello bello potente mi sa che finiamo fuoristrada c'è tutta la gente schiantata lì aspetta no tornare indietro certo che schiantata la sicurezza prima di tutto vai avanti oh no adesso c'è il punto rotoloso sa che finito no non è finito oddio adesso c'è il punto blu tipo che ci siamo staccati non ti riesce neanche a cosa ma quanto è lungo no siamo alla fine tanta allunga vieni qua chicco ti faccio vedere la sua persona non è che adesso c'è il cesso flush feccia di merda come scende male e beh qui ci blocca facciamo che tu adesso dietro ci metti il turbo anzi no lo metto io tu quindi no ma no 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 lo faccio io che tu oh la smetti di venermi addosso con questa cagata fammelo fammi mettere il turbo eh no eh muoviti che poi alla fine viene un video lungo sto scivolando oh mio dio quanto è vediamo se la sicurezza funziona anche adesso scendi vai vai aspetta quali sono i tasti che ci ho messo oddio ahahah è un po' più veloce ma leggermente oh c'è ma lo sai che hanno inventato il tuo qua oddio oddio mettiti in testa persona ahahah ahahah ah oh oh si è incastrato ok mi sa che eh oh chi ti ha favore nulla vuole senti andiamo poco poco indietro poco 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 non si è sganciato aspetta che lo riaggancio oh dio dio aspetta che lo riaggancio io ok dai ok dai usiamo i metodi convenzionali la sicurezza è importante è vero si oddio mi sa che ho sganciato l'intera cosa ho tolto no si sta sciogliendo come un cazzo guarda nooo tutto questo grazie alla fisica del soros e ho che sei già toglielo che sta laggando ho tolto sta andando a un fps ok va bene so è questa cosa grazie a tutti grazie a tutti